Ed eccoci di nuovo insieme, questa volta per proseguire con le curiosità di Michael Jackson, a 15 anni dalla sua scomparsa. Ricordiamo che è avvenuta nel 2009 uno dei temi più dibattuti dopo la sua morte, ha riguardato l'eredità. E infatti, 15 anni fa, insomma, nell'anno 2009, ammontava circa 500 milioni di dollari. Beh, oggi l'Eatmaker ha guadagnato più di 2 miliardi. I tre figli del re del pop si sono ovviamente accaparati i diritti di diretti beneficiari, ma nel suo testamento il cantante ha destinato anche il 40% alla madre, Katrin. Oggi però è anche battaglia legale tra i tre figli e la nonna, appunto, Katrin. La matriarca, 93enne, sta cercando di attingere i fondi del patrimonio del figlio defunto per contestare l'accordo di vendita di metà del catalogo di Michael Jackson alla Sony, acquistato per una cifra record, ossia 600 mila dollari. Ma chi vive oggi a Neverland questa tenuta quasi fantastica e quasi fiabesca, ma anche sulla quale pesano, appunto, le ombre degli scandali? Il Ranch Luna Park, come viene spesso denominato, dove la pop star ha vissuto per più di 15 anni, è stato acquistato nel 2020 dall'affarista miliardario Ronald Barkle, amico della famiglia Jackson, per 22 milioni di dollari come opportunità di land banking, cioè per guadagnarci ancora di più. Un'altra domanda per super appassionati è che fine ha fatto Bubbles, lo scimpanzee più famoso del pianeta, che oggi risiede presso il Center for Great Apes in Florida, ha 41 anni, ama dipingere ed era uno dei personaggi, degli animali in questo caso, verso i quali erano state rivolte in parte anche le attenzioni dello stesso Michael Jackson. Chi fosse invece il suo costumista è ben noto e su questo non ci sono dubbi né leggende. L'uomo dietro al faraonico guardaroba di Michael Jackson si chiama Michael Bush, costumista personale, è stato artefice del mitico guanto scintillante, delle scarpe antigravità di Smooth Criminal e della giocca blu tempestata di strass indossata ai gremmi. Se del cosiddetto latte abbiamo parlato nella scorsa puntata, che poi in realtà è stato l'anestetico risultato fatale per Michael Jackson, e adesso è il momento di citare le famose caramelle balsamiche. Beh, pare infatti che le prendesse ogni volta prima di esibirsi e prendeva una nota marca di caramelle con le erbe sciolte in acqua calda. La sua prima volta invece, secondo il Daily Mail, fu dopo i 30 anni. Il re del pop sarebbe stato ancora vergine a 32 anni e si dice che lo sia rimasto anche fino ai 36. La fame invece è arrivata molto presto. Michael Jackson è diventato king of pop a 35 anni fa, la notte dei Soul Train Awards, quando la sua amica Elizabeth Taylor gli ha conferito il premio alla carriera, definendolo il vero re del pop, del rock e del soul. Alla fine l'epiteto è stato solo abbreviato con re del pop. La controversa vita di Michael Jackson è comunque stata costellata anche di impegni umanitari, per lo più verso i bambini meno fortunati. Entertainer più impegnato del mondo, il re del pop ha sostenuto ben 39 diverse associazioni di beneficenza. E allora chiudiamo oggi questa doppia pillola con una canzone che riteniamo possa essere adatta come colonna sonora, ossia never can say goodbye.